buongiorno ho deciso che oggi vi porto con me questa fantastica giornata piovosa che niente sto registrando con il cellulare per la prima volta dopo 5 anni perché avevo iniziato anche io col cellulare poi ho preso la macchina fotografica però è più comodo il cellulare quando sei in giro e così la macchina fotografica è grande proviamo la qualità di questo telefono dovrebbe essere decente ora oggi è il 7 ottobre oggi è da un po' che non facevo video perché sto facendo un po' fatica a trovare il tempo di fare tutto quanto perché girare un video vuol dire anche poi andarlo a editare e insomma creare un qualcosa di decente e qui non è magari tanto il parlare e raccontare la giornata il più magari è tutto bene adesso ci trovo a casa e si fa a collezione non ci trovo a casa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. ok, e a tutti. 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 questi leggings. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti.